Salve a tutti ragazzi, è Capitan Xanox che vi parla. Oggi siamo in un nuovo video su OBS Studio per vedere come si migliora l'audio. Ma prima di iniziare, intro! Dunque, migliorare l'audio su OBS Studio, dobbiamo andare in cattura l'audio andare su Filtri, aggiungere filtro e riduzione del rumore. In questo modo i rumori di sottofondo, ad esempio l'aria condizionato, il ventilatore o l'evento del computer verranno eliminate dalla vostra registrazione. Per il secondo metodo useremo un software di Nvidia chiamato Nvidia Broadcast che se avete una scheda grafica RTX potete aprirlo e andare a modificare non solo il microfono ma anche altoparlanti e videocamera. Ad esempio, in questo caso, ho messo due effetti, ovvero riduzione del rumore e rimozione ecoambiente ma non al massimo in modo che non rovinino la voce. Per scaricare questo software vi lascio il link in descrizione se avete una scheda grafica RTX. E per adesso non ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video.